Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo video parleremo di Shuichi Akai. Shuichi Akai è un americano britannico di origine giapponese, originario dell'Inghilterra, e viene mostrato inizialmente come un misterioso uomo vestito di nero, portando i sospetti del lettore verso l'organizzazione nera, ma si scoprirà essere un membro dell'FBI, con incarichi speciali in Giappone per catturare Belmont. Il suo superiore è James Black, il suo partner è Jodie Starling. 17 anni prima dell'attuale linea temporale, il padre di Shuichi, ovvero Tsutomu Akai, fu coinvolto nel caso di omicidio di Koji Aneida e Amanda Hux e scomparve. Nel suo ultimo messaggio disse alla moglie incinta Mary e ai loro due figli di nascondersi in Giappone. Shuichi, determinato a indagare sul padre scomparso, convince sua madre a lasciarlo studiare in America. Dopo aver lasciato il Giappone, è nata sua sorella minore, Masumi. Shuichi non è riuscito a incontrarla fino a quando non è tornato in Giappone dopo sette anni negli Stati Uniti, ma Shokichi gli ha inviato delle sue foto. Dopo aver finito la scuola, è entrato nell'FBI. Cinque anni prima dell'attuale linea temporale, l'agente dell'FBI Shuichi Akai si infiltrò nell'organizzazione nera usando l'alias Daimoro Boshi e uscì con Hakemi Migliano, uno dei loro membri di basso rango, per incontrare Shio Migliano, un membro di alto rango con un nome in codice Sherry, e usa la sua influenza per entrare nell'organizzazione nera. Sebbene all'inizio stesse semplicemente usando Hakemi come strumento, entrambi si innamorarono l'uno dell'altro. Akai si è distinto come agente e due anni prima dell'attuale linea temporale ha ricevuto il nome in codice Rai ed è stato chiamato a lavorare sotto Jin. L'FBI ha atteso una trappola sperando di catturare Jin in un magazzino dove avrebbe dovuto svolgersi l'incontro, ma l'organizzazione nera ha scoperto la vera identità di Akai grazie a un errore dell'agente Andre Camel, e Jin non è mai apparso. Ha rotto con Hakemi per proteggerla e ha perso i contatti con lei dopo che la missione per catturare Jin è fallita. Due anni dopo, Hakemi è stato ucciso dall'organizzazione per troncare questioni in sospeso. Akai è un inseguitore, detettivabile e implacabile, qualità che l'hanno etichettato come il nemico numero uno dell'organizzazione nera e gli avvalso soprannome di Silver Ballet. Non vede l'ora di dare la caccia all'organizzazione e vendicarsi di Hakemi. Shuichi va d'accordo con Conan, con cui condivide molti tratti di personalità. Nonostante abbia la cittadinanza americana, considera ancora l'Inghilterra come il suo paese d'origine. James Black descrive Shuichi come una persona introversa che non si avvicina facilmente alle persone. È noto inoltre che Akai è diventato ancora più chiuso dalla morte di Hakemi. Shuichi è il cecchino più capace mostrato finora, al punto da sparare un piccolo pezzo di gomma dalla mano di Jin da circa 700 metri di distanza, che è molto più della distanza massima dei cecchini professionisti dell'organizzazione nera, Chianti e Korn. Riuscì anche a sparare a Jin dalla stessa distanza. Shuichi è anche bravo a maneggiare i focili. Farò con precisione a Belmont dall'anca più velocemente di quanto potesse mirare a lui con la sua pistola. È anche un tiratore scelto con la pistola, in grado di far scoppiare la gomma di un'auto in movimento da un'auto in corsa con un solo colpo. Fa la sua prima comparsa durante il caso in un autobus dirottato, viene presentato come uno dei tre possibili complici dei criminali. E, grazie all'aiuto di Conan, si capisce che non è lui la persona incriminata. Al termine del caso, contatta qualcuno via radio affermando che il suo obiettivo non si è fatto vedere, facendolo apparire piuttosto misterioso. Riappare poi spesso nei luoghi dove si trovano i personaggi principali, senza che si capiscono i suoi scopi. Conan lo riconosce vedendolo nel caso in cui appare per la prima volta James Black, ma non vede i due incontrarsi alla fine del caso, al bordo del pick-up di Akai. Quest'ultimo parla a Black del suo amore, coibito sano in giapponese, ed esplicita il desiderio di vendetta nei suoi confronti. Compare anche nel flashback ambientato a New York, quando Ran aveva perduto il fazzoletto datole da Sharon Vineyard, e mentre Shinichi lo stava cercando all'interno di un palazzo, lei lo incontra. Le dice di andarsene da quel luogo perché in giro c'è un pericoloso serial killer. In quell'occasione, Ran scopre che è un agente dell'FBI, e in seguito lo dirà Conan. Successivamente, che appare nel caso della festa di Halloween, quando blocca Calvados rompendogli le gambe e rubandogli le armi. Aiuta Jodie a salvarsi da Belmoth che le puntava una pistola. È proprio in quell'occasione che la stessa Belmoth afferma che il boss pensa che Akai, visto le sue grandi abilità, possa essere Silver Bullet in grado di sconfiggere l'organizzazione. Belmoth crede invece che Silver Bullet sia Conan, ma non è chiaro perché lei stia cercando una persona simile. In seguito, dopo essere venuta a conoscenza della sua vera identità, Conan comincia a collaborare con lui, oltre che con Jodie, nella caccia all'organizzazione. Quest'ultima continua nel caso in cui compare per la prima volta Rena Mitsunashi, dove l'FBI impedisce prima l'ombicidio di un politico e poi quello di Goromori. Nell'occasione, Akai ferisce Jin, suo nemico, ma soprattutto distrugge la ricetrasmittente tramite la quale l'organizzazione avrebbe potuto risalire a Conan. La lotta con gli uomini in nero prosegue nella saga Scontro tra Rosso e Nero. In questa sorta di miniserie, Akai attua insieme a Conan un piano per rimandare Rena Mitsunashi nell'organizzazione, come spia sia della CIA che dell'FBI. In questa parte della storia si fida molto di Conan, pur non essendo a conoscenza della sua identità. Inoltre, nella saga si scopre il suo passato da infiltrato nell'organizzazione. Per avere la certezza della nuova fedeltà di Rena Mitsunashi all'organizzazione, la ragazza è obbligata ad ucciderlo mentre Jin e Vodka guardano la scena mediante uno schermo la cui telecamera è posizionata sul collo di Rena. Dopo la morte, venne verificata la corrispondenza tra le impronte del cadavere e quelle sul cellulare di Conan. Era stato toccato da Akai ed è confermato che corrispondono. Dopo la sua morte, Belmoth afferma che è sufficiente solo un silver bullet riferendosi a Conan. Dopo la sua morte, Akai riappare in un flashback che mostra i ricordi di Jody, in cui veniamo a sapere che, poco prima che lui si infiltrasse nell'organizzazione, i due avevano una relazione. Vodka e Shio affermano che c'è una grande rivalità tra Akai e Barbon. Secondo Vodka, Barbon odia Akai persino più di quanto l'ho di Jin. I dubbi sulla sua morte proseguono nel caso del Bell Tree Express. Appare infatti un uomo molto somigliante ad Akai ma senza cicatrice, quindi diverso dall'uomo con la cicatrice che gli somiglia, si è scoperto essere un travestimento di Amuro e Belmoth, che indossa gli stessi vestiti di Subaru Chiyah e, avvolto dal fumo, lancia una bomba a mano per separare il vagone in cui si trova Sherry e non farla catturare dall'organizzazione. Poco dopo, Subaru Chiyah mostra il suo occhio sinistro, che è uguale a quello di Akai. In questo caso, si scopre anche che Masumi Sera è sua sorella, dato che chiama Shu, fratello mio, l'uomo con la cicatrice, a cui dice che lo credeva morto. Masumi rivela poi che è stato lui all'insegnare il Jeet Kune Do. Successivamente, viene confermato che Akai è vivo ed è proprio Chiyah. Sia Amuro, che si trova a casa di Akai per smascherare il rilevante della propria deduzione, sia Joy e Kamer, l'ercatrice sul luogo della presunta morte di Akai per indagare su di essa, arrivano a capire che il presunto cadavere di Akai è in realtà quello di Rikumichi Kusuda. Che Akai aveva portato con sé prevedendo che Jin ordinasse a Rena Mitsunashi di sparargli alla testa, essendo stato questo il metodo di uccisione di Pisco. Akai, quindi, fece finta di essere stato colpito da Rena facendo uscire finto sangue dal berretto, grazie a un congegno inventato da Dottora Gaza, per poi fuggire salendo sull'auto della donna. Le impronte sul cellulare erano quelle di Kusuda, mentre Akai aveva applicato una sostanza sulle dita per non lasciare impronte. Joy e Kamer capiscono che Akai è Subaru, perché entrambi usano l'espressione La colpa è 50-50. Infatti Subaru l'aveva usata nel caso delle bombe al centro commerciale. La frase Non avrei mai immaginato che arrivasse fino a questo punto, pronunciata da Akai sul momento del finto omicidio, è la prova che il piano era stato ideato da Conan. La frase originale era Non avrei mai immaginato che arrivasse fino a questo punto, nel prevedere tutto. Infatti Akai non immaginò che il ragazzino aveva previsto tutto. James conosceva il piano perché si era accorto della sostanza sulle dita di Akai. Subito la scoperta della sua identità, Akai appare sul lato di Jodie e Kamel e spara le gomme dei colleghi di Amuro che li stavano inseguendo per cercare di consegnarlo all'organizzazione e arrivare così al suo nucleo. Dopo aver rivelato di aver scoperto che Amuro è re furuya a causa del soprannome Zero che quest'ultimo è rivelato a Conan, re in giapponese significa Zero, consegna ai colleghi dello stesso Amuro la pistola con cui si era suicidato Kusuda e rivela a Jodie e Kamel che anche Amuro e i suoi stanno combattendo l'organizzazione. Akai comunica di non volerlo avere come nemico e di sentirsi in colpa per lui. Akai torna travestiti da Okia, secondo Conan perché deve proteggere una persona e lo fa con l'aiuto di Yukiko davanti a Jodie, Kamel e Conan riutilizzando anche un modulatore vocale a forma di girocollo inventato dal dottor Agaza. Gatsu yusaku Kudo, travestitosi da Okia per rimanere in casa di quest'ultimo insieme ad Amuro mentre Akai si trovava sull'auto, Amuro se ne va convinto che Okia non sia Akai e fa credere a Belmoth che sia veramente morto. Akai conferma che Amuro provi del rancore nei suoi confronti e riceve da Rena e Mitsunashi il messaggio con il nome Room di cui informa i colleghi. In seguito si vede Akai attravestito da Okia che legge su internet la notizia della vittoria di un torneo di shogi da parte di Shokishaneda. Akai riappare anche in un ricordo di Masumi raccontato a Conan, Ran e Sonoko. Quando la ragazza era alle medie e credeva che il fratello fosse in America lo vide con una custodia per chitarra insieme a un uomo che suonava il basso elettrico ma nascondeva probabilmente nella custodia di questo strumento un oggetto più rigido che Conan sospetta essere un fucile. Quest'uomo fu chiamato Scotch da una persona somigliante ad Amuro che gli si avvicinò. Un pensiero di Amuro che ricepò il motivo della sua rivalità con Akai. Quest'ultimo avrebbe ucciso Scotch membro dell'organizzazione che in realtà era un agente della pubblica sicurezza giapponese sotto copertura cosa di cui Masumi non era al corrente. La verità sul suo ruolo nella morte di Scotch ne è rivelata tramite diversi flashback durante un caso in cui compagno sia Akai travestito da Subaru che Amuro. Quest'ultimo trovò Akai da Matteo Scotch morto e Akai gli disse che Scotch era un infiltrato della pubblica sicurezza e che avendo colpito il suo cellulare non poteva scoprire la sua identità. Amuro credette quindi che Akai avesse costretto Scotch a suicidarsi ma in realtà cercò di convincerlo a non farlo rivelandogli di essere un infiltrato come lui. Ma mentre si avvicinavano altri membri dell'organizzazione Scotch si sparò lo stesso per poter colpire il cellulare contenente informazioni. Oltre a quelle su Scotch si scoprono altre informazioni sul passato di Akai sulla sua famiglia. Masumi afferma che è stata Shuichi a ispirarla per diventare una detective. Quando Conan e Agasa stanno per partire per la scena di un crimine di domicilio che è presente somigliato con quello di Koji Aneda Akai travestito da Okia entra in casa di Agasa con un pretesto e li segue. Mostra poi di conoscere il caso di Koji Aneda e afferma che lo spinse a entrare nell'FBI. Dice anche che suo padre si occupava del caso ma non era un agente dell'FBI. In questa occasione chiede a Conan di parlargli della sua vera identità e Conan sospetta che sappia già tutto. E infatti è così. Akai come Conan capisce che Aneda lasciò come messaggio in punto di morte le parole Asaka e Rum. Ed è poi Arran e Sonoko si hanno visto nei prestini di Masumi una persona di nome Asaka come la guardia del corpo che scomparve dopo la morte di Aneda in grado di bloccare individui pericolosi e probabilmente sotto falso nome. Segue le ragazze sul luogo delle prove di un cantante che sa per far uscire una canzone dal titolo Asaka detto con la C come nel messaggio di Aneda che si rivela poi non correlata. In seguito si scopre essere anche il fratello maggiore di Shokishi Aneda e che Mary Sera è la loro madre tornata bambina. Akai riappare successivamente in alcuni casi travestito sempre da Subaru. Nel file 1012 Barbon si infiltra in casa di Shinichi per trovare informazioni su di lui sotto ordine di Rum ma viene affrontato da Akai senza travestimento confermando così la sua identità da muro. I due si puntano contro la pistola fino a quando vengono interrotti da Yusaku e Yukiko. D'ora in poi sarà uno spoiler del manga e queste parti non ci sono ancora nell'anime quindi perché non vuole spoiler posso saltare questa parte. Si scopre anche che Mary Sera è la sorella di Elena Migliano quindi Akai non è altro che il cugino di Akemi e di Ai anche se probabilmente non ne sono al corrente. Nel file 1060 partecipa con Yusaku e Yukiko al trucco per ingannare Conan e l'organizzazione mentre nei file successivi nei panni dei Subaru Chiglie con l'aiuto di Conan al piano per salvare Kamel nell'occasione spara con precisione da una distanza di 1200 metri superando i 700 da quella del credito Jin nel caso di Yasutero Domon. Viene anche rivelato che mentre sua sorella crede che Shuichi sia morto Shuichi ancora in contatto con Akai sapendo quindi che il fratello maggiore è ancora vivo. Per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate like se non siete ancora iscritti iscrivetevi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti